Allora, qui a proposito di single, qui c'è i Poo che festeggiano, hanno già festeggiato 25 anni di carriera, c'è un solo single che è questo qui, guardatelo bene, Stefano Dorazio, single! Lancia un appello! Infatti è questo che dovrei fare, lanciare un appello. Ma perché, perché single? Perché sono stato attento. Eh, no ma perché? Perché stai venendo da solo? No, no, io devo dire che sono mediamente sempre accoppiato, però mi dura poco perché ho innamoramenti brevi, mi durano... I discorsi che ha fatto Vittorio Sgarbi ti hanno convinto prima? Io l'ho sentito poco perché ero chiuso nella Mustang, ero più preso da guidare questa macchina straordinaria perché non riusciva a sentire quello che diceva. Che diceva? Diceva appunto che la passione si affievolisce dopo un po' di giorni e quindi è meglio cambiare, questa è una sua teoria. Ma no, mi dura anche un po' di più di qualche giorno, però lo metto già in preventivo prima perché dico appunto, guarda, siccome mi conosco e so che dopo un pochino tutto finisce, allora tanto vale che ce lo diciamo già da prima e così siamo tranquilli anche dopo. Non ci sono state mai qualche separazione nella tua vita dolorosa? No, devo dire di no, fortunatamente ho tutte le mie ex compagne amiche, questo è molto bello. Parliamo con Red, allora parliamo di voi, di voi in campagna promozionale. La nostra promozione dura da 25 anni e passa, anche quest'anno è stato un grande successo, no? Sì. Quest'anno ha avuto un, diciamo, la vostra stagione ha avuto un leitmotiv, no? Sì, che è stato questa tournée acustica che poi è diventato un disco, mettendoci dentro anche altre cose. Buonanotte ai suonatori. Buonanotte ai suonatori. Un disco dal vivo, quasi tutto acustico, che ha avuto un grande successo, sta avendo un grande successo. Allora, la parola, tu invece sei tranquillo? Io sono tranquillamente... Sei un fedele? Io sono tranquillamente sposato, anzi volevo lanciare un appello in favore di Stefano, se c'è qualcuno che riesce a mettercelo da parte in modo che si dà una raddrizzata, anche lui, capito? Anche tu, Roby? Io sono tranquillo, felicemente sposato, per cui diciamo che sono l'ala... Conservatrice? Conservatrice. Del gruppo. Allora, io vi consegno un disco di platino, non so quanti dischi di platino voi abbiate in casa, penso un centinaio. Per buonanotte ai suonatori, ennesimo disco di platino, ai pu! Grazie, 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 grazie. Ve lo siete meritato ancora una volta. Raggiungendo il palcoscenico, per piacere intanto io a proposito di cantanti... Grazie. Grazie. Grazie.